Da tanti anni che avevo il desiderio di avvicinarmi a Scaldati, ho avuto tantissimi anni fa quando ancora studiavo, ero allievo della scuola di teatro, la possibilità di fare l'assistente alla regia per un suo spettacolo con un altro regista, però supervisionato da Franco personalmente, quindi in realtà ho avuto un piccolo contatto tantissimi anni fa, quindi adesso dopo tanti anni è molto bello potermi riavvicinare alle sue parole. Il pubblico vedrà un personaggio che sostanzialmente è un topino, nei testi scaldati sono presenti spessissimo gli animali, dalle farfalle alle mosche ai topi ai gatti, quindi questo topo si insinua nella scena e si insinua dentro questa storia, è come un piccolo topino operaio in qualche modo, è un po' un abitante di ieri, di oggi e di domani di questo spazio, quindi è qualcosa che si va scoprendo di volta in volta, non ha un ruolo ben preciso, ben identificato se non quello di esistere, di far parte di questa comunità. È un topino che si diverte, è un topino che balla, è un topino appunto che si adopera, un po' l'operaio che fa andare avanti la macchina di questo teatro, di questo nostro teatro, di questo nostro luogo e quindi in realtà anche se non si vede, esiste e condiziona in qualche modo l'andare avanti, il susseguirsi degli eventi. Sono molto contento di aver incontrato Livia e tutti i compagni di lavoro, Melino, Paride, Oriana, ma anche Giulia ed Emanuela per quanto riguarda l'assistenza alla regia, la scenografia, i costumi e quindi sono sempre molto contento quando ci si incontra tra persone con le quali si condivide lo stesso desiderio di andare a ricercare, scoprire perché questo qua è uno scaldati, ma è un inedito scaldati, quindi stiamo lavorando tanto sulla ricerca, sull'aggiungimento degli obiettivi che non sono semplicemente una messa in scena di qualcosa che è già esistente, ma davvero andare a trovare qualcosa che sia inedito appunto. Grazie a tutti.